Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Parleremo dei saldi al via. Ieri in tutta Emilia Romagna e anche Ferrara sentiremo come sta andando, ma è stato un fine settimana ricco di iniziative e di eventi tra la città e la provincia, parleremo anche di sport perché è iniziato il calciomercato e vedremo i primi acquisti della SPAL, ma apriamo con questa notizia perché da domani, lunedì 4 luglio, il Taser arriverà anche a Ferrara, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza saranno dotati di questo nuovo strumento, a dirlo è il sottosegretario all'interno Nicola Molteni che ha annunciato questa novità sia per Ferrara che per altre città italiane di Emilia Romagna, secondo Molteni nel 60% dei casi in cui è stato usato finora il Taser avrebbe ottenuto l'effetto voluto, ossia fermare un soggetto pericoloso senza che questo strumento fosse propriamente attivato, ovvero il lancio di dardi elettrici che immobilizzano la persona, quindi vedremo questo strumento che si aggiungerà secondo Molteni alle dotazioni delle forze dell'ordine. Ma parliamo adesso però di coronavirus perché in questa prima estate caratterizzata dall'elevato numero di casi continua a essere alto appunto il numero dei nuovi contagi giornalieri, sta crescendo anche la pressione ospedaliera ma ampiamente questa situazione sotto controllo. Allora vediamo velocemente i dati aggiornati. Sono 473 nuovi positivi nel Ferrarese dove non si registra nessun decesso per complicazioni apportate da Covid, 6 decessi a livello regionale dove la nuova ondata continua a registrare un numero alto di nuovi contagi, 6.153 nuovi positivi in Emilia Romagna, oltre 3.700 nuovi guariti. Crescono i ricoveri nei reparti Covid, stabili invece le terapie intensive a livello emiliano romagnolo. In tutta la regione fino al 28 agosto prossimo ci sarà grave pericolosità per il rischio incendi di boschivi, la siccità e le alte temperature sicuramente non aiutano, emanata quindi dall'Agenzia regionale per la sicurezza d'intesa con la direzione regionale dei Vigili del Fuoco e il Comando Regione Carabinieri Forestale, il provvedimento che stabilisce il divieto assoluto di accendere fuochi o utilizzare strumenti che producano fiamme, scintille o bracci nei boschi e nei parchi e questa disposizione veta anche il fatto di bruciare residui vegetali e stoppie all'origine ad esempio nel Ferrarese del maxincendio di poco più di una settimana fa che paralizzò il traffico di metà città. A questo aumento dei divieti corrisponde anche ovviamente un inasprimento delle misure. Chi viola le norme e adotta comportamenti pericolosi, dicono dalla regione, le sanzioni potrebbero arrivare fino a 10.000 euro, sanzioni anche sotto il profilo penale. E cambiamo adesso totalmente argomento perché ieri sono partiti i saldi estivi e anche a Ferrara ci sono già alcuni dati incoraggianti. I saldi in Emilia Romagna e a Ferrara al via sabato 2 luglio sotto i migliori auspici, nonostante i due anni di pandemia e l'inflazione dovuta alla guerra abbiano inciso su tanti esercizi che nei casi peggiori hanno registrato un calo delle vendite del 30% su base annua. Secondo il rappresentante regionale di Fismo Confesercenti, questi saldi iniziano con una buona domanda che in alcuni casi supera addirittura il periodo pre-pandemia, trend quindi per ora positivo ed è quello che spera anche Ascom. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia dovrebbe spendere in media più di 200 euro, circa 88 euro pro capite, per un valore complessivo di oltre 3 miliardi di euro. Le stime di spesa media famiglia per questi saldi estivi sono in leggero aumento rispetto allo scorso anno e corrispondono al ritorno del turismo nazionale ed internazionale, soprattutto sulle coste e nelle città d'arte. Così Giulio Felloni, presidente nazionale di Federazione Moda Italia Confcommercio, commenta l'avvio dei saldi estivi con un occhio anche su Ferrara, essendo Felloni presidente dell'Ascom provinciale, saldi che per Felloni potranno rappresentare così una vera opportunità, considerando il generale aumento dei costi e le previsioni di crescita dei listini delle prossime collezioni di moda. Torniamo a parlare della nuova società Ferrara Sviluppo Imprese, costituita da CNA Confartigianate Confcooperativa, obiettivo lo sviluppo del territorio e delle imprese della provincia di Ferrara. Allora sentiamo i vertici, i direttori delle tre associazioni. Noi in un'ottica di collaborazione con tutti gli enti pubblici e con tutto il mondo delle imprese abbiamo messo insieme per il momento i nostri staff, 10-12 persone, per ragionare di progetti concreti attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali. Su inizieremo tre tematiche, la prima è tutta la questione della logistica in questo territorio che vogliamo rivedere, riprogettare con un'ottica green e anche con una grande attenzione al tema delle comunità energetiche. Il secondo grande tema sul quale andremo a lavorare riguarda la transizione ecologica e digitale delle nostre aree artigianali e delle aree industriali che in questo momento ne hanno tanto bisogno e anche in questo caso dovremo andare a intercettare fondi pubblici per garantire uno sviluppo di queste aree. Il terzo è un tema molto sentito e cioè i modelli di sviluppo dell'artigianato e della cooperazione soprattutto nell'etica di impresa, soprattutto nella gestione economica, finanziaria e anche del capitale umano che nelle nostre aziende è davvero l'aspetto centrale. Abbiamo intanto scelto lo strumento della società che è quello più stretto dal punto di vista organizzativo perché ce ne potevano essere altri ma una società SRL ci costringe a stare insieme in maniera molto forte. Poi lo staff e l'investimento di ciascuna organizzazione è importante perché capiamo che abbiamo bisogno di fare un'operazione di investimento forte per conseguire gli obiettivi alti che la nostra parte politica ci ha dato. L'economia viaggia in maniera vorticosa e tutti i processi, abbiamo visto anche con i ragionamenti legati al PNRR, prevedono che bisogna essere pronti nel momento in cui ci sono le situazioni che vengono create. Quindi la nostra proposta va in quella direzione, di essere veloci, snelli e soprattutto utili. Questo è il nostro obiettivo. Se siamo utili ricopriamo il nostro ruolo e raggiungiamo gli obiettivi. I protagonisti dello sviluppo sono le imprese e le istituzioni di prossimità. Pensare ad uno sviluppo territoriale senza la presenza di queste due necessarie componenti noi crediamo che sia sbagliato. Per cui il protagonismo delle imprese si concretizza attraverso anche questa offerta di servizi che le nostre tre organizzazioni hanno deciso di mettere in comune. I rapporti con Sipro sono orientati alla massima collaborazione di carattere istituzionale e anche di carattere operativo. Questo è uno strumento in più per lo sviluppo delle imprese e del territorio ferrarese. I rapporti con Sipro dovranno essere assolutamente di collaborazione perché come abbiamo detto le sfide del territorio sono talmente alte che le forze pubbliche e private devono collaborare insieme per conseguire obiettivi che o conseguiamo in questo periodo storico o difficilmente in altri ambiti e in altri anni possiamo conseguire. Teatro Comunale di Ferrara. Applausi alla prima del Don Giovanni venerdì sera. Oggi, questa sera, la replica. Il ministro Patrizio Bianchi, presente all'Abbado, dal Teatro di Ferrara, ha lanciato un appello dicendo che la musica deve essere in tutte le scuole. E' stato un applauditissimo Don Giovanni quello che ha debuttato venerdì 1 luglio al Teatro Abbado. La nuova produzione della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara è stata acclamata più volte durante lo spettacolo, con un applauso finale durato quasi sei minuti. Lo spettacolo, replicato domenica 3 luglio alle ore 20, poi volerà in Corea del Sud dove è in cartellone il 7-8 ottobre alla Daegu Opera House. Il dramma giocoso con intramontabile musica di Mozart, sul libretto di Lorenzo da Ponte, è stato interpretato da un cast scelto da Leone Magerra, direttore musicale della produzione ferrarese e noto scopritore di talenti del bel canto, insieme a Daniel Smith, che ha diretto l'orchestra Città di Ferrara. Il ministro dell'istruzione, il ferrarese Patrizio Bianchi, presente alla prima, ha incontrato il maestro Magerra, ringraziandolo per l'operazione compiuta. Un Don Giovanni bellissimo, un Don Giovanni che ha riscoperto l'essenzialità della musica di Mozart, la capacità, la straordinaria modernità del testo di Da Ponte, ma soprattutto alla freschezza, la freschezza che questi ragazzi sono sentiti a offrire a tutti noi e una cosa in più, il bisogno assoluto che abbiamo di musica, la musica in tutte le scuole, la musica per tutti. E secondo gli organizzatori sarebbero stati circa 600 le persone questa mattina che hanno partecipato al concerto all'alba in Certosa, culmine di eventi della Notte Rosa a Ferrara. Vediamo le immagini. La musica ha salutato l'arrivo del giorno in Certosa. nel concerto dell'alba che domenica mattina ha segnato circa 600 presenze dopo le altrettante registrate sabato per l'esibizione serale nella stessa location dell'orchestra Città di Ferrara e del coro polifonico Santo Spirito con la direzione del maestro australiano Daniel Smith e con alcuni solisti selezionati dal maestro Leone Magerra. Per l'occasione rappresenta anche il ministro Patrizio Bianchi. La musica è stata così il culmine della programmazione della Notte Rosa a Ferrara che ha visto nel fine settimana anche le aperture straordinarie e serali del Castello Estense di Porta Paola. Domenica mattina a salutare l'alba dei suoni alle 6 nel Giardino della Certosa è stato il quartetto di sassofoni del Conservatorio Frescobaldi che ha proposto un repertorio che ha spaziato da C'era una volta il West di Ennio Morricone a Libertango di Astor Piazzolla e poi altri grandi classici con Bohemian Rhapsody dei Queen, Summertime di George Gershwin, le colonne sonore di celebri film come i Blues Brothers, il Mago di Oz ed altri celeberrimi con brani attualissimi come Shape of You di Ed Sheeran. Dopo l'esperienza dell'anno scorso quest'anno abbiamo raddoppiato gli appuntamenti musicali in Certosa ha sottolineato l'assessore Matteo Fornasini mentre il presidente della Holding Ferrara Servizi che ha sede proprio in Certosa, Luca Cimarelli, ha ricordato che la Notte Rosa non è solo riviera ma anche città d'arte. Parliamo ancora di arte, fino al 27 dicembre prossimo la Sala dei Comuni del Castello sta ospitando un nuovo allestimento dal titolo La Memoria Infedele, la seduzione delle immagini da De Chirico a Schifano, la mostra dossier realizzata dal servizio Musei d'Arte del Comune e dalla Fondazione Ferrara Arte con il patrocinio della Regione è a cura di Chiara Borrasi ed è un nuovo appuntamento di un programma espositivo dedicato al patrimonio museale cittadino Castellestense quindi che vuole essere sempre più al centro della cultura ferrarese, come dice Vittorio Sgarbi che sentiamo. Durante l'estate e magari in una giornata di pioggia Ferrara è un luogo magico che ha un centro che è il cuore del mondo che è il castello. Le cose accadono qua, sono accadute qua ai tempi degli estensi e qui oggi si possono vedere le mostre di Adelchi Riccardo Mantovani, un grande sognatore, un ferrarese che è vissuto a Berlino e ha continuato a provare nostalgia per Ferrara e per i suoi luoghi e per i suoi sogni e per i suoi miti incrociati con la sua storia personale e nella amministrazione dei musei di cui oggi sono il Presidente c'è stato un personaggio molto singolare, un maestro di scuola pieno di intuizione e di sensibilità che si chiamava Franco Farina, per 30 anni ha governato Palazzo degli Amanti e i musei di Ferrara e ha fatto tutte le mostre più importanti che potevano fare in quegli anni, negli anni 60-70, quando non c'erano musei d'arte contemporanea in Italia, c'erano collezioni, c'erano gli uffizi, c'erano tutto quello che si può vedere, ma l'arte contemporanea, gli autori che agiscono nel nostro tempo e in tutto il mondo passarono per Ferrara in quei 30 anni. Della esperienza evidentemente molto onesta di questo maestro Franco Farina restano alcuni scritti, le mostre, i cataloghi e alcuni quadri della sua collezione privata che la moglie Lola Bonora che con lui seguì l'avventura dell'arte contemporanea, soprattutto nell'area dei video. Ecco, quei quadri furono in parte tra le poche cose che lui raccolse, si vede De Chirico, Carlo Mattioli, si vede cose non di primissimo impegno per questi artisti, ma che forse erano regali che venivano dati al direttore. Tra le cose più importanti, però ci sono due dipinti di Leon Orfini, una straordinaria pittrice che è triestina di origine, maturò e visse a Parigi nel mondo di tutti i grandi pittori del surrealismo e dipinse alcune opere che oggi sono tornate di grande attenzione, perché sono sogni, fantasie, sono psicoanalisi che diventa pittura e qui ne abbiamo due esempi che appartengono adesso ai musei di Ferrara, il crepuscolo del mattino e questa memoria infedele, perché l'idea è che questo dipinto, questo dipinto che richiama gli idigli della pittura del Rinascimento, che lei immagina e reinventa negli anni 70, sia ricordato a memoria mentre lo vede un paggio settecentesco, che però lo ricorda con qualche variazione, memoria infedele. Ecco, è un divertimento di un'intelligenza concettuale propria di molti artisti che hanno scelto di fare sperimentazioni, c'è uno che si chiama Giulio Paolini che gioca con fotografie, concetti, idee. Lei con la pittura ha fatto sogno e arte concettuale, ha messo insieme due dipinti che diventano la memoria di uno senza averlo rivisto. Eccolo qua, sono due capolavori assoluti di altissimo valore che meritano il vostro viaggio a Ferrara e la vostra presenza al castello per vedere Adelchi Riccardo Bantovani, l'ultimo sognatore, e Leo Norfini, la sognatrice di un mito e di un volo perduto. Andiamo in provincia di Ferrara, adesso torniamo a parlare della Sagra di Mezzogoro che si è conclusa nei giorni scorsi. Sagra che è stata inaugurata dai ciclisti della squadra Bardiani arrivati direttamente dal Giro d'Italia, accompagnati dall'ammiraglia storica del 1958. durante la Sagra si sono potuti ammirare le bici e le maglie del Giro dai tempi gloriosi di Fausto Coppi sino a quelli dei grandi successi di Marco Pantani. Fausto Pezzi, in questo piccolo corner di storia, con tanta storia per parlare di quello che Ghigi ha fatto in questi anni per non dimenticare con i campioni. Sì, siamo venuti qui a Mezzogoro a portare un po' di ricordi di quegli anni, sono 60 anni che proprio 60 anni fa la Ghigi correva al Giro d'Italia e quindi c'è stata questa idea di portare un po' di ricordi di quella squadra, di portare sempre avanti la storia del ciclismo e soprattutto la storia di questo marchio che ha dato tanto alla storia del ciclismo e adesso è ritornato ancora a sponsorizzare una squadra di professionisti e quindi ci è sembrato giusto e bello ricordare un po' la storia da dove è venuto. Pezzi, dicevamo, unici. Ce ne può solo citare qualcuno? Abbiamo visto dei nomi esemplari, Pantani, Coppi, ma solo per citarne qualcuno. Ma qui c'è un po' la storia, diciamo, di mio padre che è stato prima un corridore professionista negli anni 50, quindi nel periodo di Coppi e poi dopo è stato direttore sportivo di tanti corridori, tra cui anche della Ghigi. Diciamo c'è un po' la storia della sua vita a partire dalla maglia di Fausto Coppi del Tour de France del 52, quello che mio padre ha corso con lui in nazionale italiana e poi fino ad arrivare appunto alla Salvarani, alla Ghigi, che sono state sue squadre e poi a Marco Pantani che è stato, diciamo, l'ultimo corridore che lui ha voluto rimettere in bicicletta dopo gli incidenti che aveva avuto e dopo Marco ci ha regalato quelle fantastiche emozioni nel giro del Tour del 98. Questa è storia, dicevamo, per gli appassionati, però potrebbe essere anche storia da spiegare a un bambino che per la prima volta entra magari in questo piccolo spazio e vede questa esposizione con queste biciclette storiche. Sì, perché diciamo che oggi il ciclismo è uno sport molto tecnologico, molto moderno con dei materiali addirittura di derivazione spaziale sulle biciclette, quindi c'è uno studio molto importante sull'aerodinamica, sulla leggerezza dei materiali, però appunto è bello raccontare e far vedere da dove viene tutto questo, quindi qui ci sono bici in acciaio con i primi cambi a mano, senza ancora i deragliatori, ci sono le bici, la transizione che porta dal ferro all'alluminio fino a raggiungere al giorno d'oggi la tecnologia più moderna, quindi è interessante per uno che non conosce la storia della bicicletta perché può vedere una piccola evoluzione attraverso le cose appartenute ai campioni. Franco Canciani, lei ha questa maglia in mano perché questa maglia lei la conosce, se la ricorda bene, lei ha corso con questa maglia. Nel 61 ero professionista con la Ghigi, ero onorato di correre con la Ghigi perché avendo fatto il militare a Rimini ho conosciuto bene i romagnoli e per me hanno una sensibilità, una cortesia che per me è sempre gioisco con loro. Poi venendo adesso da Monfaicone e ho visto tutta la vostra campagna così verde che da noi manca l'acqua e mi ha gioito proprio su sta contento. Però mi dispiace di una cosa, non ho portato una foto che devo dare la signora, il figlio, che si chiama? Fausto? Fausto Pecci, no? Fausto Coppi, eh? Perché ho una foto della Ghigi intestata, la casetta proprio, sarà bellissima, no? Le chiedo, il ciclismo oggi, com'è cambiato? È sempre più difficile perché già con le strade, col traffico i ragazzi non hanno possibilità di allenarsi, mentre quando ero io giovane se mi alzavo alle 6 e per 2-3 ore non c'era nessun'auto per la strada. Poi è anche più difficile perché questo fatto che tanti altri sport prendono tanti soldi e chi lo fa invocare a un giovane correre in bicicletta. Calcio adesso, la finestra estiva di calcio a mercato ha appena aperto i battenti e la SPAL ha già piazzato i primi tre colpi a circa un mese dall'inizio del campionato di Serie B, vediamo quali sono questi colpi. Tre acquisti tutti giovanissimi per la SPAL che inizia così il suo calcio a mercato estivo 2022, ultimo in ordine cronologico al capitolo arrivi l'attaccante Nicola Rauti in arrivo dal Torino a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione, 22 anni, nato a Legnano, ha militato nel Monza, nel Palermo, nel Pescara in Serie C, in nazionale è arrivato fino all'Under 19, arriva in prestito ma dalla Fiorentina invece il difensore Cristian Dallemura, 20 anni, ha anche debuttato in massima serie proprio contro la SPAL al Mazza nell'ultima giornata di Serie A 2019-2020, poi il prestito alla Regina, la Cremonese al Pordenone in Serie B e capitano dell'Under 20 azzurra. In difesa è arrivato anche Marco Varnier acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto dall'Atalanta, classe 98, nato a Padova, Varnier arriva dal prestito al Como in Serie B e sono state numerose le sue presenze con le nazionali azzurre giovanili. E con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona domenica sera. Grazie.